Ciao a tutti, fai innamorare la persona giusta. Ecco, quindi che prima bisogna capire qual è la persona giusta e poi capire come farla innamorare. Ora, capire qual è la persona giusta per te è semplice, è quella che non ti genera dei vincoli, quella che non ti genera dei blocchi che non ti rende infelice, quella che soddisfa le tue aspettative. Diciamo che la persona giusta è quella che non ti fa innamorare. Ma fondamentalmente è quella che non ti fa innamorare senza un motivo logico e razionale. Perché quando noi ci innamoriamo senza sapere il perché, è la persona sbagliata quella. È la persona sbagliata perché fa leva sulle nostre istanze emotive e le istanze emotive più turpi, diciamo così, quelle che si vanno ad agganciare su situazioni di sofferenza e non su situazioni di piacere. Quindi quella lì è la persona sbagliata. Allora, da quella lì bisogna imparare a sganciarsi. Per imparare a sganciarsi dalla persona sbagliata, vatti a vedere il video che ho fatto sulle persone sbagliate. Invece è la persona che soddisfa le tue esigenze, che ti piace ovviamente anche un po' esteticamente, come dire, con la quale pensi ci possa essere un buon feeling anche da un punto di vista fisico, ma soprattutto che non ti genera quella tensione eccessiva. All'altra parte emotiva non piacerà tanto e quindi devi fargli la piacere. Quindi devi fargli la piacere generando delle emozioni. Magari in che modo? È anche un modo facile per fargli innamorare, quindi somministrando un po' di abbandono. Perché se tu somministri un po' di abbandono, un po' di rifiuto proprio a quella persona lì, ti vivrai anche tu, da un certo punto di vista, l'abbandono e il rifiuto. No, perché io se rifiuto una persona in realtà a livello speculare è come se comunque non mi allontanassi e quindi vado ad alimentarmi di desiderio in questo modo. Quindi questo è un metodo furbo, interessante, che ottiene, prende due piccioni con una fava da un lato, ti fa coinvolgere un po' di più perché ti autosomministra una tensione emotiva, dall'altro tende a coinvolgere un po' di più l'altra persona. Questo però devi farlo soltanto con la persona che ritieni giusta da un'analisi logico-razionale, insomma fatta a tavolino perché ha tutte le caratteristiche per età, per status sociale, per caratteristiche fisiche, per, diciamo, stile di vita che ti piacciono. Perché poi con una persona, per valori soprattutto, i valori sono molto importanti perché poi se tu vuoi coinvolgere una persona, tanto vale dedicare l'energia alla persona giusta. Una volta che hai capito che quella è la persona giusta, te la fai piacere allontanandoti e in questo modo la sedurai, perché devi capire quali sono i suoi turbamenti per poterla coinvolgere. Normalmente comunque si va abbastanza sicuro facendo una griglia incrociata, diciamo, somministrando abbandono, disestima e rifiuto, riesci rapidamente, diciamo, a dare una terna di emozioni che più o meno vanno a beccare quasi tutte le persone, se non è una e l'altra, ovviamente in quantità non eccessiva, nella giusta quantità per produrre il coinvolgimento e far sì che questa persona si innamori di te. Quindi in questo modo riesci a raggiungere due, come dire, riesci a prendere due piccioni con una fava. Quello di far innamorare la persona giusta è allo stesso modo, quindi molto importante, far sì che tu ti possa innamorare della persona giusta e nel momento in cui ti innamorerai della persona giusta vai a, per così dire, se ci fosse una persona sbagliata vai a eliminarla dalla tua vita, perché ovviamente le persone sbagliate sono quelle con stile di vita diverso da tuo, quelle che ti penalizzano, quelle che non ti valorizzano, quelle che ti danno disestima, quelle vanno eliminate, vanno scartate, perché se tu ti agganci lì rischi di dissipare ciò che di più importante c'è nella tua vita, che è il tuo tempo, tieni presente che il tempo è veramente la risorsa più importante che abbiamo, quindi non va sciuppata, non va sprecata, ma anzi va ottimizzata e valorizzata. Quindi ecco come fare a far innamorare la persona giusta. Per questo video è tutto, mi raccomando iscriviti al canale, metti un like, condividilo con i tuoi amici, ci vediamo al prossimo video, ciao!